amici ma soprattutto nemici bianconeri buonasera ragazzi buonasera un video leggerissimo di un minuto un minuto e mezzo neanche semplicemente per dirvi che la roma la roma è bastato un cambio di allenatore un cambio di allenatore non ha preso nel club non ha preso nel guardiola non ha preso né conte non ha preso nel sedan non ha preso tutti questi grandi grandi nomi ha preso un semplice de rossi che cosa ha fatto di rossi ha portato nuova vita al gruppo che era in depressione ha dato responsabilità ai giocatori i giocatori stanno ripagando e la roma ha iniziato a giocare al calcio è iniziato anche invece nonostante abbia perso con l'inter ma facendo un primo tempo spettacolare e poi avendo anche a disposizione una palla del 3 a 3 ma lasciamo stare i dettagli ma è completamente cambiata dal giorno alla notte quindi ribadisco un semplice de rossi e tutto va questo è la dimostrazione lampante che la juventus qualora ci potesse essere un cambio in corsa troppo cose che non accadrà mai le cose si potrebbero risolvere perché c'è un problema c'è chi non lo capisce mette la testa sotto la sabbia ma la juventus esiste un problema e il problema si massimiliano allegri ribadisco allegri col murrino sono uguali stesso gioco di merda stesso stesso modo di pensare giocatore siano rotte le palle quindi le prestazioni stavano iniziando a scemare de rossi ha dato nuova vita e non è soprattutto il giocatore non hanno più la libido dell'allenatore cose che potrebbero avere adesso anche i giocatori della venese cambiando l'allenatore questo alibi finisce purtroppo noi abbiamo una dirigenza che purtroppo è infatuata di questo allenatore e ce lo porteremo fino alla fine basta ho finito un abbraccio e complimenti alla roma per quella per quello che sta facendo e per la scelta che ha fatto ma se ci ingazzate fino alla fine allegri out